Sono contento che l'Inter è in testa, fa sempre piacere vedere che i neri azzurri sono in testa della classifica, si sono qualificati per le ottavi della Champions, quindi è un'annata buona come l'anno scorso. Grande lavoro di Inzaghi, grande lavoro di tutta la società. Senza dubbio il Liverpool quest'anno ha giocato fino ad oggi anche una stagione molto bene, seconda in classifica nella Premier League e poi anche nella Champions, sei vittorie su sei, quindi di più non si poteva fare. Il mio amico Klopp non sarà contento che ha pescato l'Inter.